La Procura ha confermato le accuse nei confronti di 42 persone coinvolte in un sistema di annullamento sistematico di multa per violazione del Codice della Strada in cambio di favori, inclusi vantaggi elettorali e piccoli regali come tappeti per cerimonie nuziali. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato emesso dal PM Alessandro Prontere e Massimiliano Carducci, che hanno avviato il procedimento lo scorso 14 febbraio. Tra coloro che riscano un processo ci sono anche due vigilesse, Luisa Fracasso e Loredana Valletta, che secondo l'accusa avrebbero giocato un ruolo predominante. Sono anche coinvolti i politici Antonio Finamore, consigliere comunale di opposizione, e l'ex assessore Luca Pasqualini. Altri indagati includono il poliziotto provinciale per Vitale Frassanito, il dipendente della polizia locale Carlo Corvino e la dipendente della Lupe Servizi Francesca Vallone. Sono stati individuati anche i presunti beneficiari delle multe annullate. Le accuse comprendono l'Associazione per delinquere, corruzione, falso, soppressione di atti pubblici e accesso abusivo ai sistemi informatici. Si sostiene che gli imputati abbiano cercato di ottenere vantaggi illeciti, tra cui il consolidamento del consenso elettorale attraverso l'annullamento sistematico delle multe. L'inchiesta ha anche rilevato il coinvolgimento di Francesco Delia, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, che avrebbe aiutato a neutralizzare l'esposizione debitoria di Valletta, in cambio nell'annullamento di una multa. L'indagine ha anche evidenziato la concessione irregolare di alcuni pass ZTL. I documenti dell'inchiesta comprendono oltre 40 faldoni e copie degli atti di indagine sono state messe a disposizione delle difese. Si stima che su 800 verbali sequestrati almeno 500 siano stati annullati illegalmente, tramite una procedura informatica e il sito PM utilizzato per amministrare le sanzioni.